Per Natale sicuramente continueremo a rimanere bianchi, su questo non ci sono dubbi, dobbiamo aspettare giovedì per vedere gli ultimi dati, per ora i dati come ha detto giustamente aumentano i contagi ma non in maniera esponenziale i ricoveri, quindi questa è la dimostrazione che i vaccini allontanano quanto meno dalle situazioni più gravi e quindi noi confidiamo di poter rimanere bianchi anche per Capodanno. Vedremo giovedì i dati, ciò detto bisogna comunque ribadire e sottolineare come oltre alla necessità della vaccinazione ci vuole un minimo di attenzione, di precauzioni che ripetiamo costantemente ma che sono fondamentali per la battaglia al virus.